Nuovi posti covid negli ospedali e numerose assunzioni per far fronte all'emergenza. La SST di Lecco si prepara a fronteggiare l'impatto sul sistema sanitario della seconda ondata che vede anche nel nostro territorio casi in aumento con andamento esponenziale. Aumentato a 160 il numero di posti letto disponibili nei reparti covid del Manzoni. Di questi 155 sono già occupati. Esauriti tutti i posti in terapia intensiva 10 e in subintensiva 4 ma la SST è pronta qualora ce ne fosse necessità ad aumentare velocemente i letti disponibili per i pazienti positivi aprendo nuove aree. Abbiamo fatto esperienza di quanto accaduto a marzo spiega il dg Paolo Favini. Anche al mandic mirata inizialmente covid free sono stati creati 36 posti 34 sono già occupati ma l'azienda ospedaliera sta procedendo anche a nuove assunzioni per rinforzare i ranghi 121 le nomine già effettuate 4 quelle in corso in queste ore per un totale di 125 unità per la maggior parte medici e infermieri. I contagi del resto non risparmiano il personale. Su 417 dipendenti sottoposti a tampone sono risultati positivi in 42. Inoltre nelle prossime settimane con tutta probabilità anche un contingente di medici e infermieri lecchesi sarà chiamato a lavorare nell'ospedale covid in fiera a Milano. Proprio per limitare le assenze la regione ha disposto che possano rimanere in servizio i lavoratori che siano stati a contatto con colleghi positivi purché asintomatici. Sul fronte tamponi la sst sta pianificando l'installazione di due container nel piazzale del Manzoni. Saranno dedicati ai pazienti già in quarantena per i test di controllo. 250 per ora i tamponi che ogni giorno riesce a processare l'ospedale di Lecco. Se il numero è maggiore i campioni vengono inviati agli altri laboratori lombardi ma è stato ordinato un nuovo macchinario che permetterà di raddoppiare la capacità di elaborazione. In arrivo intanto anche i test antigenici. Restano attive per ora le attività ambulatoriali pur con tutte le precauzioni anticontagio. 5 dall'inizio della seconda ondata i decessi per covid registrati negli ospedali lecchesi.